Questo suono si deve ascoltare pensando al film della terra crema con gli occhi chiusi immaginando un lembo di sole rosso con tutto il mare che diventa di fuoco e i palaglioni neri guardando le cose. Allora se uno riesce a avere questa visione nella testa, nel cervello, a rogna e il suono pavoloso. Tutte le barche, 42 barche che andavano a pesca di sande con la vela nel colpo di Catania, ritornavano la mattina e ognuno aveva la sua rogna e suonava per far capire dove si trovavano, perché erano tutte diverse. Il suono non ce n'era un uguale. Allora, prima di sentire questo meraviglioso suono, invitiamo tutti quanti noi a chiudiamo i gatti e sogniamo pure, che dici? Un consiglio. Già di usare. Via. Già di usare. Già di usare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.